Guardate quest'uomo cosa trova in questa spiaggia e guardate poi cosa crea Tralasciando il fatto che guardate quanta sporcizia c'è nella sabbia e neanche ce ne accorgiamo Non sempre ma avete capito Tutta la sporcizia di questa spiaggia tra cui lattine e tappe di plastica li fonde e crea la base del progetto Tra l'altro è troppo soddisfacente quando verse il metallo liquido nelle forme Ci crea una griglia di metallo che poi rende circolare E guardando questo video ho pensato che io non vedo l'ora arrivi l'estate E sono curioso di vedere in quanti sono come me Quindi clicca mi piace se anche tu non vedi l'ora di andare al mare Voglio vedere quanti ne siamo Ma adesso dovrebbe aver terminato il progetto Lo sta lucidando Ed è un cestino dell'immondizia creato da... dall'immondizia Il processo è lunghissimo ma è un modo super creativo per dare una seconda vita all'immondizia